La risposta del Presidente Mattarella a Elon Musk è stata tempestiva, elegante, sottile, quasi affuminata direi, perché precisando che l'Italia sa badare a se stessa il rispetto della sua Costituzione, ricorda implicitamente che se gli americani hanno sostanzialmente scritto le Costituzioni dei paesi sconfitti nella Seconda Guerra Mondiale, Germania e Giappone, l'Italia la Costituzione se le data da sé. E quando Musk insiste, chiedendosi se l'Italia ha una democrazia o un'autocrazia, con un po' di alfabetismo costituzionale, vengono alla mente altre parole, sempre le Presidente, pronunciate il 20 dicembre davanti alle altre autorità. In quell'occasione il Presidente disse che bisogna stare attenti che pochi gruppi diventino una minaccia per la democrazia, pretendendo di scrivere loro le regole invece di rispettarle.